Ma ne potresti lasciare un pochetto? Cioè tecnicamente sarebbe tutta roba mia. Ma tu scherziamo? Ehi, ehi, ma che succede lì fuori? Ma mi sono detto che c***o posso fare metà di roba mia con la canotta focosa. Lati, non è giusto subire questa fronte... Ehi, puzza via! Ah, 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 via! Che vi prende a voi due? Ma non sapete che ogni femmina cerca il maschio più forte? Mi sa che me tocca, mori vergine.